Festività natalizie nella città di Andrea, Barletta, Trani Vediamo come i cittadini della provincia di Barletta Andrea Trani farebbero gli auguri ai propri cari o a qualcun altro Un augurio di buon Natale speciale a... Che bella domanda Io auguro un Natale bellissimo a tutti Tantissimi auguri a tutti Alla mia famiglia, alla mia ragazza lì faccio i migliori auguri Tantissimi auguri a tutte le persone che mi vogliono bene Auguri a tutta la mia famiglia, voglio un mondo di bene, ai miei amici Auguri a tutti, a tutti, a tutti in particolare, niente di particolare, a tutti quanti Auguri a tutti gli artisti come me, sono una pietrice Soprattutto alle figlie mie, tutte le figlie di questo mondo Augurando un buon Natale e un buon Capodanno a tutti Tanti auguri di buon Natale, spero che quest'anno sia un anno buono per tutti Top assoluto e chiaramente ovvio anche a me Tutte le persone che sono molto civili Al sindica no Io ho a mio nonno che forse purtroppo non lo festeggerò con lui e che a me dispiace, auguri nonno Mabruk al kulli ahad Innanzitutto a tutte le persone che magari non stanno bene, quindi passeranno un Natale un pochino diverso rispetto a quello che passerò io Auguri di buon Natale a tutti quanti, soprattutto alla mia famiglia Soprattutto a mia figlia e a mio figlio A tutto il mondo Ai nostri ex Auguri agli ex Auguri, buon Natale Quello passato Tanti auguri a tutt'Andrea, a tutti gli andresi A tutti i bambini, anziani, a tutti quanti Ed è bello, belli e brutti Insomma auguri di buon Natale a parenti, amici e tante altre persone Ma soprattutto auguri a voi che ci seguite, auguri dalla redazione di news24.it Anche alla cittadinanza, a voi in famiglia, a tutti